Cosa pensa dell'uscita di Renzi dal PD? Che devo dire? Non saprei come dire, era tutto previsto, possiamo dire così? Io anni fa avevo più o meno previsto anche questo. Però Franceschini gli ha mandato un messaggio in cui gli ha detto fuori dal PD sei morto, lei che cosa invece ne pensa? No, 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 io spero che vivano tutti. Politicamente? Sì, spero che vivano tutti, spero che siano tutti, è chiaro che ognuno si prende le responsabilità. Grazie.